Un oscuro ed inquietante messaggio è nascosto in questa scena medievale apparentemente banale, i coniugi arnolfini. I due vestono con abiti in pelliccia, pesanti ed invernali, ma dall'albero fiorito, che si intravede dalla finestra della camera, è facile invece capire che ci troviamo in primavera inoltrata. Perché due arance sono appoggiate con finta casualità sul bordo della finestra, quando questo frutto nel Medioevo simboleggiava la peste? Che significato può avere in un ambiente così illuminato dai raggi esterni una sola candela accesa? Quasi avesse un significato arcano, come a voler dire che solo uno dei due è ancora in vita in quella stanza. La donna è veramente incinta? O si solleva soltanto la veste nell'atto di simulare una gravidanza che non avrà mai? È forse un messaggio lanciato a qualcuno? O a qualcosa? Ma soprattutto, chi sono i due sconosciuti che vengono riflessi in un piccolo specchio alle spalle dei due coniugi? Come se gli stessero di fronte, ma che non può essere, visto che davanti agli arnolfini c'è solo il pittore che li ritrae. Spettri? Insomma, ammettilo. C'è qualcosa di sinistro in questo dipinto. Qualcosa che se vuoi ti racconterò nel thriller storico Arcana Rubrissa.